La torta! Avete preso la panna che stava in frigorina? Andrò con la scaduta! Io mi sono dimenticato di buttarla! Dove io passare? Assunta! Fu l'assunta! Ma tu non stavi a dieta! È tutta la sala del Cristino! L'amore scusami ma io non ce l'ho fatta! Abbiamo fatto il grande tempo addirittura, eh? Domani mattina volete cuore la colazione dentro il letto? Sapete che questa è un'occupazione abusiva! Questa è proprietà privata! Privata! Privata del signor Rovere! Che è amico nostro e ci ha dato le chiami! Dobbiamo andare! No, ci andiamo a chiara che siamo stati noi, no? Sonia, io me lo sento! Mio fratello sta ancora là dentro! Andrò, io non voglio tornare in galera! Infatti, non preoccuparti! Ci mando io! No! Non ti lascio andare da solo! Questo casino l'abbiamo cominciato insieme! Sonia, tu resti qua per questo sia! Voglio restare con te! Qualunque cosa succeda! Allora, adesso! Andiamo! Vieni, questa notte ci sistemi in camera mia, poi vediamo! Ok! Assù, io non ce la faccio più a resistere! Aspetta ancora un po', ciccio! Tieni duro! Ma che succede? E che succede? Stanno giocando la battaglia navale, no? Assù, ti prego, dai! Assù, e fa qualcosa! Che posso fare? Silvia deve pure uscire dal bagno, no? No, vabbè ragazzi, però adesso basta! Questo bagno è un vizio, eh! Non ce la faccio più assolutamente riloggiando la battaglia medica, fa qualcosa! Ma che avete fatto? Che succede? La guanna era scaduta e io non me ne l'ho accorto! Oh, avete sentito questo? Silvia! Oddio, vuoi vedere che Silvia è venuta? Silvia! Eccolo di nuovo! Silvia! Sembrava il rumore di un vetro! E se è un lardo! Un nuovo giorno è qui Anche per noi Un mondo più bello Si sveglierà Da questa vita siamo noi Lascia le cose che non vuoi E così poco il tempo per amare E un posto al sole ancora ci sarà Il caccio è aperto Alessandro deve essere qua Stiamo facendo una pazzia, manca pochissimo Non importa Se l'incendio scoppia quando sei vento Non esce vivo Il fuoco andrà velocissimo Non vedete che la sua macchina è qua? Aspetta Cerchiamo prima di spedere il testo Ma lei non c'è tempo da perdere Devo dire l'arrestato fuori Alberto Non mi lasciare da sola Senz'altro signora Lidia Buonasera Cioè Buonanotte E scusate il disturbo Allora Che vi avevo detto? Il signor Lovere sarà dimenticato di avvisarci È dimenticato? Ma noi dobbiamo fare lo stesso il nostro mestiere Non è vero? Ma quale mestiere? Quale mestiere che siete peggio dei criminali? Ma vi pare di andare di notte a casa della gente Scazzare tutto La spaventate a morte Ma che siete? L'SS E dai rafferci Rita per favore Forse non mi sono spiegato Questa zona è piena di delinquenti E extracomunitari Quelli non ci mettono granché a entrare dentro le case e occuparle E noi dobbiamo fare la guardia Ci pagano per questo Vedete? Ma che vediamo? Buona Sentite per favore Buona Vabbè Basta Ci siamo chiariti Ci siamo spiegati Tutto a posto Ma i signori se ne vanno E ci lasciano stare in pace Ok Sì Ce ne andiamo Potete dormire in santa pace Troppo gentile Comunque state attenti Qua bisogna sempre stare con gli occhi ben aperti Eh? Da piano di brutta gente in giro Abbiamo avuto pure la buona notte i randi Capito? E ora chi dorme più Prego Dobbiamo scappare subito Che trenta Perché non ti segui un po' con noi invece? Stavamo aspettando Alberto Ah e Sonia Adesso ci siamo proprio tutti Allora Ma che sta succedendo? Non so Ma non c'è tempo da perdere Dobbiamo scappare da qui E anche in fretta Che c'è avvocato? Ti sta mandando a fuoco la casa? Sanno tutto del tuo piano geniale Ma come c'è avvocato Che è venuto in mente di bruciare il cantiere? Sono bastato Sono bastato Guido Tu mi devi dire Quale faccia ti presenti? Guido Ma quello che hai fatto Guido Ci sono cose che tu non sai Ma che cose? Io so solo che tu l'hai dato a figli Come una bestia Ma se tu mi lasciassi spiegare Guido Guarda che se ti agiti Poi la nausea peggiora A parte che hai scazzato Pure il vetro della mia stanza Non mi dispiace Io non volevo Ma che cosa non volevo? Ti hai tirato uno scoglio Un faraglione Dai Guido Vieni qua Calmati Il bagno è libero E tu che sei venuto a fare qui? E' venuto a vendicarsi Che l'hai lasciata E hai scazzato pure il vetro della mia finestra E' già Io non l'ho fatto apposta Sto pure male con lo stomaco Ci manca la prospa Oh ma lo volete lasciar parlare? Avanti parla Che ci facevi a quest'ora qua di notte Già Che ci facevi a quest'ora qua di notte? E che ti volevo dare la buonanotte Io non me la sentivo di andare a casa così Mi mancavi tanto Anche tu amore mio Ma ma che fanno? Certe cose è meglio lasciarle fare ai professionisti Avvocato E invece è meglio sbagliare da soli Che affidarsi degli infami traditori E' vero Franco? Ehi ehi Non trattarlo ma A me è simpatico E comunque ci sono sistemi migliori Una candela della benzina Roba da Willy e il coyote Ma che ti ridi? Ride Ma lo sai chi sono questi? Lo sai? Alberto per favore non è il momento Giusto Adesso dobbiamo parlare di cose importanti Avvocato Io con i delinquenti ci parlo solo in tribunale Però non mi sembra la vorda avvocata Andare a piccare incendio in giro E lì quale fa cosa? Veramente liquida no? E dovreste vedere il video Sullo schermo si è più convincente che in foto Non provano niente L'incendio non c'è stato quindi Sì Se tentate qualche altro scherzo Il cantello va fuoco Ma questa volta sul serio E abbiamo anche le pronte per incastrarle E' chiaro? Buongiorno Ehi Dormito bene? Insomma Allora Diego guarda Marmellata Fette biscottate Senta Roca A me c'è un po' di succo di frutta? Sì In frigo E l'umore? Ieri rinero Ma hai fatto bello da qui Sembrava di essere tornato a casa Perché perché non li chiami tu? Magari sono in pensiero Ah sì? E dove li chiami? Perché se vado a 10 anni Un telefono in quello schifo di casa Non ci sta neanche l'acqua calda Ieri sembrava di servire Una famiglia di profughi Diego questa è una brutta storia Lo sappiamo tutti Soprattutto per tuo padre e tua mamma E allora perché continuano a far finta di niente? Come se niente fosse successo Sette cosa volevi che facessero? Anzi hanno dimostrato Di avere una grandissima dignità Ma lo sai che cosa te ne fai Della dignità? Diego smettila Ormai non sei più un ragazzino Smettila di Incolparli come se fossero Gli unici responsabili Di tutta questa situazione Franco C'è nessuno? Angela vieni siamo qua Ciao Michele Vi sto fra Tu stai qua Sì perché? Tuo padre e tua madre Ti stanno cercando da ieri sera Sono preoccupati da morire Ma perché non ne hai avvisati? Mi sei agitato tutta la notte? Non era facile Prendere il sonno Dopo quello che è successo E anche io ho dormito E smettila con quella faccia da funerale Guarda che nella merda Ci siamo tutte e due Certo Però grazie alle tue grandi idee Stiamo affondando sempre di più Se è possibile Per lo meno io ci ho provato A fare qualcosa Tu ti eri già seppellito da solo Sei completamente pazzo Adesso i morraca Non ce li togliamo più di dosso Se c'era una possibilità Di uscirne fuori Ce la siamo completamente fottuta Il nostro piano avrebbe funzionato Alessandro Se non era per quel pastato di Franco Altra grande idea Dopo tutto quello che gli avete fatto Voi due ve l'andate anche a prendere come complice Geniale Veramente geniale Ciro Porta questi due caffè al tavolo in fondo E il cappuccino all'altro Ah poi devi chiamare il fornitore dei disminenti E non ti dimenticare che bisogna scaricare il sapore del gelato Ah Ciro aspetta Silvia io ho soltanto due mani Non posso dare piedi Non sarei del genito Spiritoso Volevo solo chiederti se conosci un vetraio Devo riparare una finestra Ah guarda che è il vetraio Guardate il tuo vento Ah muore fino al vetro Meno male Cominciavo a sentirmi trasparente Stai un'ora per me? Certo Ciro Mi sostituisci tu al banco eh Lascia stare i tavoli Stavo nelle mie poste eh Stavo giusto pensando a te Lo vedi? Non riesco a starti lontano Già Però Torno mi hai sempre dato amore Silvio per piacere non dire così Non ti sto rinfragrammando Solo che Ogni volta che vai via Mi sento sola Come se Fosse finita ogni volta Dammi ancora un po' di tempo Io voglio che grazie accetti la situazione Senza forza Hai ragione E non c'entra niente in questa storia Io non so come fai ancora a sopportarmi Ciao E mi piaci per davvero Anche se non te l'ho detto Perché è guadito trovarci Solo per portarti a letto Dai Raffaele sbrigati che poi voglio chiamare Angela Ecco Adesso ho lasciato un biglietto così se torna prima di noi Ma quello sicuramente sarà Dario vedrai No ma che Dario non ti stanno proprio frequentando in questo periodo a tanto gradino Non ti stai sempre a presto a sentire Sto sempre appresso a quel Teo Raffaele ma chi sono quei due là vicino? Quei due chi? Qui vicino al furgone Quoi c'ho dei ladri? Ma quella Raffaele fermati dove vai? Fermati Vieni qua, vieni che hanno fatto, che hanno preso I due cornuti si sono mesi la batteria Mannaggia, mannaggia a me, mannaggia Oddio, Raffaella Raffaella, che ti sei fatto? Che ti sei fatto? Fammi vedere Renato l'ho incontrata ieri sera e l'ho portato fuori Sì, però potevi pure avvisarci Michele, siamo stati in pensiero tutta la notte Fortunatamente ho incontrato Silvio che mi ha detto che era qui Hai ragione, non ho pensato ad avvertire al menù Dove sta? Stati là in cucina, Renato scusa se te lo dico Però Diego sta malissimo, cerca di non rimproverarlo No, non ti preoccupare, ci penso Tu sei un irresponsabile Ma ti rendi conto che i tuoi genitori stanno sulle spine da ieri sera? Metodo Montessori, appunto Papà, papà non è il caso di prendertela così Tu stai zitto e vai a scuola che è già tardi Insomma dico io, con tutti i problemi che ci sono Ci mancavano solamente i tuoi capricci Ma come ti permetti di parlare dei nostri problemi? Quando è stata anche colpa tua se mio padre è stato licenziato Diego, calmati adesso, dai su Va bene, va bene, va bene Io adesso sono stato un po' brusco, ok? Ma è un momento difficile per tutti Sì, io non sono più ragazzino E non mi succede niente, anche se sto un paio di giorni fuori di casa Va bene, sei un uomo, ok? E allora assumiti le tue responsabilità Andiamo di volta a casa, su Raffaele non puoi continuare a fare di testa tua Dobbiamo chiamare un medico, per favore Ma quale medico, Rita? Chiama il medico? Ma lo vedi dove siamo finiti, eh? Rita, lo vedi dove siamo? Ma lo vedi dove siamo, Rita? Siamo a mezzo e mezzinca di qua dentro Senti, Rita, la verità è che io non fermo più a niente Questa è la fine che ho fatto Rita, cercate un altro Rita, guarda, è meglio che tu stai senza di me È meglio che state tutti senza di me Tu questa cosa non me la dici mai più, hai capito? Scusa Scusa, 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 scusa Scusa tu No, scusa tu Lo vuoi un po' di succo d'arancia? Grazie Un po' già meno lì Non riesco a smettere di pensare a quello che ci ha fatto Franco Per piacere, sto lavorando So, scusa, è che mi sento responsabile per quello che è successo Sono io che ho pensato di proporgli il lavoro Beh, effettivamente non è stata una mossa intelligente Ma tu te lo saresti aspettato che andava dritto dai morraca Avrei dovuto immaginarlo È un po' meno fallito che ha pensato che poteva farmela pagare Accordandosi con la camorra? Sembra che tu non lo conosca Sonia è un delinquente E prima o poi doveva cascarci Ma quanto le aveva offerto? Magari... Ma magari cosa? Quella non vedeva l'ora Io non so neanche perché ti sono stata a sentire Adesso è tardi per il facciamo Se fosse andato tutto bene staresti qui a ringraziarmi Lo so, ho sbagliato anch'io Lo sapevo che Franco ci odiava Ma non pensavo che ci avrebbe traditi Perlomeno... Non il suo amico Alessandro Ma non c'è più niente da fare Sonia, quelli sono camorristi Un altro passo falso E rischiamo di perdere molto più che i soldi Certo che una bella camomilla calda ti cambia la vita eh Preferivi una cioccolata calda? No Magari con un po' di panna E vabbè ma mica ce l'ho lasciata io la panna scaduta in frigo? Vabbè scherzavo Avete sentito freddo stanotte con il peggio rotto? Ma che dici ci siamo scaldati a vicenda Comunque... Goffreddo era dispiaciuto Ci manda il vetrario a pettarti E vabbè ma mica l'ha fatto apposta Non lo so Senti voleva sapere se tu l'avevi scusato L'importante è che l'hai scusato tu Io li voglio molto bene Goffreddo Sta solo tentando di tendere vita Silvia c'è una trefata per te Arrivo Lo sai che ho perso un chile e due con la cosa della panna scaduta? Secondo me la posso brevettare come dieta Funziona? Ci entra quello con il veleno per topi Funziona assoluto Questa faccia la conosco Secondo me era Goffreddo No meglio Era l'agenzia immobiliare C'è uno che vuole comprare casa mia Sì non vorrei essere pessimista Ma non credo che i soldi che ti danno per la casa Bastano a comprare i caccia in volcana No ma io sono sicura che li troverò gli altri soldi Raffaele sei tu? Sono io ma Diego Mi hai fatto prendere una paura Si è chiamato là fuori Non mi hai sentito Ma ma chi c'è? Ma me lo chiedi pure Ci hai fatto fare una nottata in bianco Una preoccupazione Non sapevamo dove eri Non è lasciato neanche il numero di quel Teo Scusa ma ieri sera stavo troppo male Ho dormito dai ragazzi al palazzo Coladini Papà dove sta? Sta fuori col meccanico Stamattina ci hanno rubato pure la batteria del furgone E tu che ci fai qua? Vuoi un caffè Franco? O preferisci qualcosa di alcolico? No caffè grazie Benissimo Mi spiace Questo lavoro l'aver fatto anche gratis Vale I veri professionisti si fanno sempre pagare E molto Ma vedi Per me vedere Alberto Paladini nei guai È già una grandissima soddisfazione Eppure una volta eravate molto legate Tu gli hai fatto parecchi favori O mi sbaglio Alberto Paladini si è messo la mia amicizia sotto i piedi Quando non gli servivo più Si è messo anche la mia vita sotto i piedi Non gli devo nessun favore Credimi Io non immaginavo che stavate in queste condizioni Quali condizioni? Questa casa ha un tetto, le pareti, ha tutto Certo non è il massimo Almeno si respirà l'aria pulita Rita Io e Giulia non c'entriamo con quello che è successo Figurati E chi si aspetta niente dai parenti? Voi non potete stare qui Questa zona è pericolosa Ho detto non ti preoccupare Ci stiamo benissimo Ci siamo anche attrezzati per la difesa personale Guarda Rita Rita basta È impossibile per voi andare avanti così Ci dovevi pensare prima Renato Quando ci hai buttato in mezzo alla strada Ormai è tardi Le chiacchiere sono belle Ma sono i fatti quelli che contano Beh Hai ragione Diego Dammi una mano a mettere le vostre cose in macchina Su Andiamo Ma che vuoi fare zio? Voi venite via con me E subito Che c'è? Adesso vuoi farci la carità per pulirti la coscienza? No non si tratta di carità Rita E cosa sto batti parli? Tanto io senza di voi da qui non me ne vado E dove ci vuoi portare? In una bella camera d'albergo con vista sul mare? No No Vi dovete accontentare di Palazzo Palladini Venite a stare a casa mia E stiamo lì tutti insieme E stiamo lì tutti i nostri spettatori